Ciao, bentrovato, vediamo come eseguire la barca. Ti siedi, pieghi le ginocchia, ferri le ginocchia da dietro e la schiena è dritta. Il petto aperto, vieni leggermente indietro e quindi stendi le braccia e rimani con le punte dei piedi a terra. Non collassare, non curvare la colonna, allunga le braccia avanti e prova a salire prima un piede e poi l'altro. Solo si riesce a controllare, se no sempre le mani dietro le ginocchia, dentro l'ombelico, schiena dritta, petto aperto, respira. L'ultima opzione, puoi provare a stendere le gambe o a stendere una gamba o l'altra alternandole. Mantieni la posizione nella tua opzione. Mantieni il controllo, il respiro lungo e profondo. Nella tua opzione, come ti viene meglio, come preferisci. Mantieni ancora un respiro e lentamente torna e recupera. Grazie, alla prossima. Ciao ciao. 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 Grazie a tutti.